Supplenze a rilento concorsi in arrivo. Sono i temi della nuova puntata di Tecniche della Scuola Live in programma mercoledì 30 settembre. Ne parleremo con i senatori Bianca Laura Granato del Movimento 5 Stelle e Mario Pittoni della Lega. Vi aspettiamo mercoledì 30 settembre alle ore 15 sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook.